Diego Maranghi e Leonardo Piccinini benvenuti all'almaracco di bellezza divagazioni quotidiane dal calendario e non solo una produzione classica hd sky canale 136 in collaborazione con intesa san paolo da dove arriva questa conoscenza minuziosa del corpo umano nel primo rinascimento si diffonde l'entusiasmo per tutto ciò che viene dal mondo classico e l'anatomia non fa eccezione quasi tutti gli artisti scultori e pittori dell'epoca studiano il corpo umano almeno a livello teorico fiorisce un commercio clandestino di cadaveri freschi e in molte città la profanazione delle tombe è punita con pene severissime tuttavia la curiosità prevale sulla paura al manacco di bellezza 24 novembre Leonardo Piccinini Piero Maranghi e oggi parliamo finalmente di un medico perché non lo facciamo mai abbastanza Carpi Carpi che è il mio medico personale no no è Jacopo Berengario da Carpi all'anagraficità Jacopo nome molto più Barigazzi Barigazzi che muore a Ferrara il 24 novembre dove muore a Ferrara il 24 novembre del 1530 è stato un medico e un anatomista italiano una personalità straordinaria uno dei grandi punti di svolta della storia della medicina e dell'anatomia è proprio l'opera di anatomia di Jacopo Berengario da Carpi è il medico del rinascimento cioè è uno degli uomini simbolo anche se tra i meno conosciuti perlomeno per chi non è di Modena perché a Modena c'è Viale Berengario c'è anche a Milano però c'è anche a Milano ti volevo dare questa notizia non lo sapevo dov'è Viale Berengario vicino alla fiera purtroppo della sua vita non abbiamo molte notizie ma proveremo a mettere in fila quelle che abbiamo trovato in particolare ci siamo affidati a degli amici di Leonardo esperti di messe nere a Modena e di sedute spiritiche che si sono messe in contatto con lui con Berengario con Berengario allora era nato a Carpi è Berengario da Carpi da Carpi par forza ed era nato nel 1466 non sappiamo il mese del giorno quindi non possiamo dirvi il segno suddecale è importante per chi crede in queste cose si sa che il mestiere da medico lo ereditò dal padre e che la sua era una famiglia numerosa cinque fratelli il giovane Berengario ha un carattere litigioso è un po' violento ma al tempo stesso segue gli insegnamenti di Aldo Manuzio che aveva come simbolo l'ancora e il delfino io faccio il delfino e l'adagio classico festina lente festina lente che poi è stato anche ripreso in tempi più recenti da Enrico Mattei affrettati lentamente che viene spesso citato lo salutiamo da un grandissimo uomo l'uomo dell'idrogeno e dell'energia salutiamo Marco Alverano e tutta la sua bellissima famiglia bellissimo fantastico è anche un po' il moto dell'almanacco festina lente perché noi siamo un po' festina lente no noi siamo soltanto lente va bene ma questa è un'altra storia senti lui oltre a Manuzio in quella corte vede ascolta intercetta gente così Pico della Mirandole Carpi e Pietro Pomponazzi si laurea in filosofia a Bologna e nel 500 ormai a più di 30 anni si dedica alla medicina i suoi grandi meriti sono didattici perché Berengario è l'autore e l'ideatore dell'illustrazione nei libri di anatomia non è una cosa da poco per la prima volta grazie a queste illustrazioni chiunque poteva vedere come era fatta una colonna vertebrale un cuore un arrapparato riproduttivo femminile che se lui dice immaginarlo ma e lui ce lo spiega l'anatomia non può essere acquisita per solam vocem out per scriptum che attore meraviglioso ma sono indispensabili gli occhi visus et tactus ah mi piace molto sì mi piace far così molto chiusa la trasmissione per sempre finita l'almanacqua chiuso senti la sua opera fa costantemente appello all'uso della dissezione alla verifica dell'empirico e il modello di insegnamento e di apprendimento da lui proposto si distacca radicalmente da quello dei suoi predecessori è una vera e autentica rivoluzione si è uno dei punti di svolta nella storia dell'umanità c'è stata una mostra qualche anno fa a palazzo grassi che proprio lo collocava tra gli uomini che hanno cambiato la storia del mondo con gutenberg si mi ricordo la bibbia fino allora degli studenti di anatomia del tardo medioevo e del rinascimento era l'anatomia dell'ottimo mondino degli uzi da bologna è orgoglioso oggi no 1521 berengario dalle stampe i commentaria super anatomia mundini oltre 500 pagine sulla bibbia in oggetto che presenta per la prima volta 21 illustrazioni è una vera rivoluzione è un nuovo modo di raccontare l'anatomia attraverso le immagini il cervello le vene eccolo questo però lo sai che è vero ah sì eh sì meglio non toccarlo no no è di un mio amico di ponna ma è che sta benissimo peraltro non gli è successo niente non so come è un po' spento però senti l'estrema modernità sta nell'aver compreso il valore dell'illustrazione è un valore certamente didattico di cui ancora siamo in debito ai nostri giovani ma ricordiamolo non è soltanto didattico il nostro perché questo si mette a curare papi sì principi ad esempio Lorenzo de' Medici che non è Lorenzo il Magnifico quello ma è il Duca d'Urbino il Duca d'Urbino quello che è sepolto nella sacrestia di San Lorenzo e Giovanni dalle Bande Nere sì Berengario è molto intelligente e nel frontespizio dell'opera inserisce lo stemma a sei palle della famiglia Medici dedica l'opera al cardinale Giulio de' Medici e già che c'è inserisce anche Leone X Medici pure lui per me sbagliare il papa va sempre bene è stato chirurgo di ben tre papi Leone X, Clemente VII e Adriano VI l'istruttore, il precettore di Carlo V il chirurgo dei papi operava al gemelli al gemelli senti un'altra cosa che sappiamo di lui è che otteneva compensi veramente mirabili per la sua opera ad esempio per le cure al cardinale Colonna lui ottenne in cambio il San Giovannino di Raffaello che oggi possiamo ammirare agli uffizi anche a noi non dispiacerebbe ricevere dei quadri importanti per i nostri servigi per i nostri servigi quindi se volete mandateci un San Giovannino di Raffaello anche a Rochco va bene ha appena fatto 250 e passa milioni di dollari 153 così detto per gradino e bastano anche i tre anche i tre la differenza 1529 si va a Ferrara dagli Este e si presta servizio presso Alfonso I d'Este diventa il chirurgo quindi tre papi e un duca e un duca e da mezza Europa si va sparge la voce si sparge la voce c'è un callo vai da Perengario sì pensate che è talmente famosa una celebrità celebrità che appunto arrivano i clienti importanti Giovanni dalle Bande Nere che lui cura dopo che era stato ferito in battaglia a una gamba Lorenzo De Medici come ci ha detto Leonardo non il magnifico che aveva preso una pallotta una schioppetata in testa sul tema scrive un terzo testo assai importante De fractura calve sine cranei è una tappa migliare nello sviluppo della chirurgia cranica e in quest'opera Berengario affronta tutti i tipi di fratture craniche possibili e poi disegna perché poi c'era la novità delle armi da fuoco esatto quindi ti potevi fare male come mai avevi provato prima certo che scrive anche cose a noi molto care soprattutto in questa redazione c'è l'appendice vermiforme l'intestino crasso è che non voglio sentire quello che Amerigo degusta deglutisce no no degusta col baby russa di solito il giovedì ci parla della ghiandola timica quella davanti alla trachea è ritenuto anche il primo che abbia descritto la forma dei ventricoli cerebrali quattro cavità comunicanti del cervello e l'azione delle valvole cardiaci il cuore è qua il cuore il cuore è qua devo dire che Leonardo è utile sembra il vecchietto di Frankenstein dategli un extra dollaro dice Jim Wilder vabbè è anche colui che dimostrò l'inesistenza della cosiddetta rete del miracolo cioè quell'organo che il medico romano il galeno il galeno poneva alla base del cervello guardate che bravo con la funzione di filtrare gli spiriti animali dagli spiriti vitali ecco un altro pezzo della sua fama è legato poi a una malattia che affliggeva mezzo mondo cioè la terribile sifilide che peraltro nei nostri uffici è ancora ben presente sì che in Italia si chiamava mal francese perché quando le truppe di Carlo VIII di Francia erano scese in Italia la sifilide si diffonde si diffonde ovviamente i nostri medici non sapevano come intervenire e tentavano ogni sorta di cura e poi arrivò Christian Barnard dell'epoca Berengario Berengario che era un sifilologo sì e lui lo racconta tra le altre cose perché c'è un suo paziente molto famoso e molto anche Saturnino Saturnino benvenuto Cellini nella sua autobiografia parla intitolata vita parla di Berengario è un po' come oggi c'erano certi dottori è come quelli che comprano i quadri ce l'ho comprato alla galleria a Cadogan Berengario è come Zangrillo Zangrillo è Zangrillo sì sono stato da Zangrillo che poi magari non è vero ma si dice io l'ho detto più volte allora Berengario curava la sifilide con massicci impasti di mercurio che non è che proprio facesse benissimo con l'acqua con la cenere questo unguento mercuriale che tu ancora prendi tra l'altro sì l'argento vivo sì io lo bevo è un medicamento attenzione che va usato con una certa parsimonia perché ha una controindicazione è tossico è un piccolo problemino e Cellini racconta che Berengario grandissimo ceruzico faceva tutto per denaro che mostrava di sanare meravigliosamente queste cotai in firmità ma voleva far patto prima che cominciassi a curare come dire paga quanto è il preventivo perché poi muori almeno io ho incassato beh stupendo i quali patti erano a centinaia e non a decine secondo me era anche invidioso Cellini Cellini pazzato se fermato si fussi qui in realtà il povero Berengario diventa come Dulcamara dell'Elisir d'Amore bravissimo senti per fortuna lui partì al momento giusto e con molte migliaia di Ducati la data della sua morte è rimasta avvolta nel mistero per molti anni fino a che è stata ritrovata un'annotazione su un manoscritto conservato naturalmente a Ferrara con la data 24 novembre 1530 e la leggenda vuole che abbia dissezionato più di un centinaio di cadaveri durante la sua vita Amerigo ha alzato la mano ho visto un po' barcollare non lo vedete lui dice che lui è a 110 ma questa è un'altra storia faremo una puntata sui 110 cadaveri di Amerigo va bene un ultimo contributo l'anatomia infatti era considerata uno spettacolo uno spettacolo dal profondo significato filosofico e religioso perché osservare la complessità del corpo umano è equivaleva a osservare la massima opera di Dio secondo alcuni biografi Scott Joplin nasce il 24 novembre oggi del 1868 forse in Texas ma più probabilmente in Arkansas dove il censimento di due anni dopo 1870 lo pone a Linden una piccola cittadina nei pressi di Texarkana Texarkana è un posto che Leonardo ha frequentato lui ha fatto il liceo a Texarkana e si vede il padre Gilles Joplin che non c'entra con Jay Joplin e neanche con Gennis è un ex schiavo della Carolina del Nord perché da tempi ricordiamocelo sempre che dopo la fine della guerra civile si è spostato verso ovest e questa è una bellissima storia il sogno americano la ferrovia la ferrovia sì il grande west mentre la madre Florence Given Given è una donna di colore però nata già libera nel Kentucky sì dove si mangia il pollo che lavora come donna delle pulizie allora i genitori hanno una grande passione che è quella per la musica musica liberatoria e il padre suona il violino mentre la madre canta e suona il banjo e Scott a sette anni ha già ricevuto i suoi primi riudimenti musicali ed è autorizzato a suonare il pianoforte nelle case mentre la mamma fa le pulizie quindi loro arrivano insieme è bellissimo meraviglioso 1880 noi troviamo i Joplin a Texarkana ma questa situazione purtroppo famigliare si è deteriorata perché il padre abbandona Florence e i figli per un'altra donna nonostante Florence fatichi col suo lavoro di donna delle pulizie e fatica proprio a mantenere se stessa a mantenere i figli continua a sostenere la passione musicale del giovane Scott e soprattutto questa ambizione fortissima che ha il ragazzo verso la musica è molto serio tutti i pomeriggi finita la scuola lui cerca un pianoforte per esercitarsi il ragazzo oltre ad essere dotato serio è anche intelligente ha capito che quella è la via per salvarsi e viene aiutato da molti musicisti e insegnanti della città in particolare c'è un immigrato ebreo tedesco interpretato da Donald Pleasens Julius Beiss che è pienamente consapevole di cosa vuol dire essere soggetto all'odio razziale gli dedica il tempo e le lezioni gratuitamente Weiss non si limita a insegnargli la musica popolare di quel momento ma e questo è molto importante perché non puoi prescindere da quello che è successo prima di te gli propone tutto il repertorio classico e quello operistico e quindi lo aiuta a sviluppare il senso della musica come arte e non semplice intrattenimento e ricordiamo anche che il nostro Scott Joplin non dimenticherà mai il vecchio insegnante e quando Julius Weiss si ritroverà malato e a corto di denaro non si farà problemi a regalargli somme di denaro per aiutarlo a tirare avanti stupendo 16 anni si esibisce con un quartetto vocale di coetanei accompagnandosi al pianoforte quando c'è il pianoforte e insegna anche per arrotondare sia la chitarra che il mandolino 1880 ormai lui a Texarkana è un nove e nei suoi dintorni si incomincia a parlare di lui e quindi è venuto il momento di partire per seguire il sogno di diventare un musicista professionista anche se ahimè la realtà è una realtà brutale perché il razzismo gli impedisce di entrare nel circuito dei musicisti classici relegandolo a suonare nelle chiese come accompagnatore per i cori o mamma mia nei bordelli per intrattenere gli ospiti hey what key you in what key you in what you doing on them key you trying to beat me nel 1893 lui è a Chicago per la fiera colombiana di Chicago 27 milioni di visitatori pazzesco è l'expo si è organizzata per commemorare i 400 anni si della scoperta dell'america da parte di Cristoforo Colombo è un evento enorme appunto come hai detto tu sono milioni e milioni di visitatori e sebbene la partecipazione degli afroamericani sia ridotta al minimo gli artisti di colore riescono a ritagliarsi uno spazio dove possono dove possono quindi di nuovo bar teatri e ci sono anche i bordelli che affiancano la fiera lui partecipa con una propria band di cui è arrangiatore suonatore di cornetta e si rende conto velocemente che la sua musica e quella degli altri artisti di colore è quella che va per la maggiore e in questa occasione che il pubblico incomincia ad ascoltare e appassionarsi e appassionarsi a ragtime che è un genere musicale da ballo che nel 1897 viene descritto come un vero richiamo un vero e proprio richiamo alla natura selvaggia che stimola con forza i cuori delle persone cresciute in città scott non è il primo a comporre i brani rag ma è sicuramente uno dei compositori più colti ed evoluti anche grazie all'insegnamento di vice e arriva un primo grande successo Mabel Leaf Rag che viene pubblicato nel 1899 da un rivenditore di strumenti di Sedalia come viene in mente Ray Chiles in Blues Brothers rivenditore di strumenti John Stilwell Stark che paga la composizione 50 dollari più l'un per cento di ogni copia dello spartito venduta è una composizione probabilmente ispirata alle sessioni musicali che Scott tiene al Maple Leaf Club e secondo l'allievo di Joplin Brun Campbell è stata composta almeno l'anno precedente alla pubblicazione se non di più e in breve tempo quest'opera diventa l'archetipo dei ragtime dal punto di vista ritmico ma non solo anche dal punto di vista armonico la linea di basso molto atletica e gli accordi dissonanti con questa linea melodica insolita nelle sue accentuazioni in controtempo beh il passaggio sincopato che collega la prima alla seconda strofa è per l'epoca una novità intrepida e dirompente la leggenda vuole che Maple Leaf Rag vendesse in breve tempo un numero tale di copie da rendere immediatamente ricchi sia Stark che Scott Joplin ma è più probabile che le prime 400 copie ci abbiano messo almeno un anno a essere vendute e quindi garantendo a Joplin un introito di 4 dollari però in un modo nell'altro le cose cambiano in maniera significativa di 4 dollari Tu eri davvero l'entertainer, ero? Uno. Sì, uno. Molti, molti ricordi. Now the curtain has gone up. The entertainer has taken a bow. He does his dance set and sings his song. He even gets the audience to sing along. Yes, he knows just what to do. He knows how to bring down the house when he's through. Snappy patter and jokes. He knows what pleases the folks. The entertainer. The star of the show. The entertainer è l'altro grande classico del piano rag. Vede la luce nel 1902. Viene descritto dai contemporanei come il più bello, il più intimo dei rag di Joplin, talmente spontaneo nella sua invenzione melodica da imprimersi indelebilmente nell'orecchio dell'ascoltatore fin dal primo ascolto. Le sue abilità pianistiche sono in declino. Entra in crisi nel corso dei primi anni del secolo. A causa della sifilide. E qua torniamo al nostro berengaghi. Sì, al mal francese. Scott cerca una nuova via di espressione musicale che si concretizza in due opere. Una è perduta, Guest of Honor, probabilmente viene sequestrata per una storia di debiti non pagati e poi probabilmente anche distrutta. Sulla seconda c'è una lunghissima opera di ricostruzione. Stiamo parlando di Free Monisha, che è un evidente omaggio di Joplin all'opera nostra, europea, e quindi ancora la lezione di Weiss, di Julius Weiss, con un overture, un preludio, i numeri chiusi, con i cori, i balletti. La storia narra di una giovane ragazza di colore, appunto, Trimo Nisha, che istruita alla lettura, iniziata alla cultura, guida la sua comunità fuori dall'ignoranza e dalla superstizione. È chiaramente un personaggio ispirato in parte alla vita stessa di Scott Joplin, in parte a quella della sua seconda moglie, Freddie Alexander, che era una ragazza di colore, acculturata, impegnata politicamente, che morì però, purtroppo, a soli vent'anni, pochi mesi dopo averlo sposato, nel 1904. La pubblicazione di quest'opera avviene nel 1911, nella versione però solo per canto e pianoforte, e non trova la via del palcoscenico durante la vita del compositore. Nel 1914, lui ormai è consapevole che gli resta poco da vivere, e comincia questo lavoro di orchestrazione della partitura, che verrà portato a termine solo grazie alla collaborazione di un amico. Perché? Perché Scott Joplin muore il primo aprile del 1917, aveva solo 48 anni, e con lui muore un po' anche quella musica, che poi riemergerà prepotentemente, anche grazie a fenomeni come la stangata. Adesso magari fermiamolo all'inizio degli anni 70. Però sappiamo che il musicologo Joshua Rifkin, direttore d'orchestra, si è occupato di riorchestrarla, e l'opera è andata in scena con grandissimo successo ad Atlanta nel 1972. Per la direzione dell'omonimo Robert Shaw, e la regia di una ballerina e coreografa di colore, Catherine Dunham. Il cervello è qui con noi, la gallina è sempre spenta. Che dire? Secondo voi, facciamo un quiz, questo è il cervello della gallina, o noi due abbiamo un cervello da gallina? Io lo sa. Potete rispondere. Chi lo sa? Avete tempo. Nel mandare le risposte in redazione, mettete o delle banconotte da 5 euro, o, che so io, delle noccioline. Sì, sì, io so che Amerigo vorrebbe fare il battitore d'asta di alcuni dei cimeli che sono presenti, una riffa praticamente. Quei pochi che lui ha portato in redazione, come ho spiegato ieri. Di riffa o di rap. Lui c'ha il magazzino. Leonardo ha il suo magazzino a Modena, con i suoi amici di Modena. Tutti i numerati, elencati. Va bene, oggi Edmanga e oggi Timbota ci regala andare in za e in là, andare di qua e di là. Cioè bighellonare, bighellonare che è un po' il senso della nostra esistenza. Sì, è un flaneur. Io da grande vorrei fare il bighellonatore. Sei un flaneur? Quando sarò grande, Leonardo. Vi ha capito, sì. Perché non sono grande. Se li cari in film, quello big è bellissimo. Io, mentre Leonardo ci offre, tengo il cervello, ma aggiungo, perché ho fame, la bestia. Questa qui è stupenda, guardate. Sì. Questa è la nostra redazione. Sì, sì. Gente che non sta bene. No. Ma neanche lui sta bene. Ma torniamo alla stampa di qui sopra, Berengario. Gutenberg. Il semplice fatto che la carta sia diventata più disponibile grazie alla rivoluzione della stampa dei libri ha portato gli artisti a lavorare in modo diverso, afferma Martin Clayton, responsabile delle stampe e dei disegni del Royal Collection Trust. Così. Che è anche il curatore di una mostra straordinaria. Se volete vedere veramente dei disegni pazzeschi, dovete andare a Londra fino al 9 marzo. Una mostra che si intitola Draw in the Italian Renaissance. Michelangelo, Leonardo, Raffaello. Tutte le tartarughe ninja e in più Annibale Caracci, Beat Angelico, Ghirlandaio. E quindi vedere le collezioni meravigliose in quella che oggi si chiama King's Gallery, che fino a poco tempo fa si chiamava Queen's Gallery. Queen's Gallery perché sapete che quando c'è un re è King's e quando c'è una regina è Queen. Giustamente. In concomitanza, fino al 16 febbraio 2025, non molto lontano da lì, siamo alla Royal Academy, c'è la mostra su Leonardo, Michelangelo, Raffaello, quel 1504 in cui loro si ritrovarono a Firenze. E fu vera gloria. E ai posteri. La ardua sentenza. Sentenza. E quindi oggi chi cambia canale è un sentenza, quello di il buono, il brutto e il cartivo, cioè stiamo parlando di Lee Van Cleef e non è male. Lui è Eli Wallach e io sono Clint Eastwood. Linea alla rete per i bellissimi programmi di classica. Non ci crede ma noi lo ascoltiamo. A lui non gliene frega niente. Lui adesso esce e ci lascia qua. Perché lui sta al grandottero Ed de Milan. Ed de Milan. Ed de Milan. Perché poi Ed de Milan? Ed. 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 Non si è mai capito. Non si è mai capito ma faremo un almanacco anche su questo. Avete degli argomenti? Scrivete a Piero. Sì. Perché io li prenderò in considerazione. A domani? No. Ci vediamo naturalmente domani. Evviva. Almanacco di bellezza. A cura di Piero Maranghi e Leonardo Piccinini. Con Lucia Simioni, Stefano Puppini, Jacopo Milardotti, Paolo Faroni, Riccardo Cassani, Greta Torresi, Samantha Chiodini. Realizzato da Amerigo Daveri, Valentino Puppini. Luigi Consolandi, Stefania Margheriti, Alessandro Puppini. Prodotto da Piero Maranghi, una produzione classica HD. Sky Canale 136 in collaborazione con Intesa San Paolo.